Uedì, anticipazioni prossime puntate, Gemma e Paola Ferricorti in studio, Luca in crisi. L'appuntamento con le prossime puntate di Uomini e Donne destinate al pomeriggio di Canale 5 si preannuncia particolarmente scoppiettante e intenso. Le anticipazioni sulla trasmissione del pomeriggio di Maria De Filippi rivelano che al centro dell'attenzione, ci saranno le vicende di Gemma, la quale si ritroverà ai Ferricorti in studio con la dama Paola. Spazio anche alle vicende del tronista Luca che, questa settimana, si ritroverà a mettere in discussione il suo percorso con Alessandra. Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e Donne che saranno trasmesse durante il mese di aprile su Canale 5. Rivelano che Luca si ritroverà a fare i conti con le lamentelle di Alessandra, la ragazza che aveva provato a conoscere meglio nel corso delle registrazioni precedenti. Tuttavia, dopo un percorso iniziale che sembrava promettere bene, ecco che il tronista ha scelto di parcheggiare la ragazza, scatenando la sua ira in studio. Alessandra ha chiesto spiegazioni al tronista, sul perché di questa sua scelta di non portarla più in esterna e a quel punto Luca ha svelato come stanno davvero le cose. Le anticipazioni sulle prossime puntate di Uomini e Donne rivelano che Luca ha ammesso di essere in crisi, dato che vuole riflettere bene e capire se portare avanti o meno questa frequentazione con Alessandra. Insomma, sembrerebbe che Luca non sia più convinto al 100% di questo percorso iniziato con la giovane corteggiatrice. Proprio nel corso delle riprese del 16 aprile, ha avuto modo di conoscere anche una nuova ragazza che ha saputo far breccia nel suo cuore. E poi ancora, al centro delle nuove puntate del talk show pomeridiano di Maria De Filippi, ci saranno anche le vicende di Gemma. Le anticipazioni su Uomini e Donne rivelano che Paola e Gemma si ritroveranno ai ferri corti in studio, tra le due dame ci sarà una furiosa lite. Il motivo di questo scontro tra le due protagoniste del throne over, sarà legato al cavaliere Elio, che entrambe stanno frequentando fuori dallo studio della trasmissione di Maria De Filippi. Spazio anche alle novità legate al percorso di Nicole, gli spoiler delle prossime puntate rivelano che la tronista arriverà a mettere in discussione il sentimento di Carlo nei suoi confronti. Dando il via ad un confronto in studio. A quel punto il corteggiatore ammetterà di essere pronto anche a uscire subito dallo studio con lei. Essendo sicuro al 100% dei suoi sentimenti verso Nicole. Grazie. 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 Grazie.